Ciao a tutti! Oggi realizzeremo una pistola a gas molto bella con oggetti ordinari. Ci serviranno un bastone di legno, un tubo trasparente, una bottiglia, delle fascette di plastica e una normale torcia a gas. Prendete un trapano con una punta grande e fate un foro sul fondo della bottiglia. Poi dobbiamo riscaldare l'estremità del tubo e allungarlo con le mani, in modo che si adatti al collo della bottiglia. Non sarà necessario se avete un tubo più grande. Collegate l'altra estremità alla torcia a gas per ottenere una cosa del genere. Ora dobbiamo fissare la torcia a gas al bastone di legno con l'aiuto delle fascette di plastica. Poi dobbiamo attorcigliare il tubo in modo che formi alcuni anelli e fissarlo al bastone. E non dimenticate, anche alla bottiglia! Con un coltello tagliamo le code in eccesso delle fascette e otteniamo un prodotto un po' strano. È necessario premere leggermente il pulsante per rilasciare un po' di gas e poi premerlo del tutto in modo che si accenda. Abbiamo una specie di arma spaziale che produce effetti di luce straordinari e un suono accattivante. E quanto più scura è la stanza, tanto più bella appare. Se vi va faremo un video con armi vere. Non dimenticate di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale. A presto!